immagina cannavacciolo che fa serata allora allora vogliamo fare con le mani ma tu vogliamo ballare vogliamo fare un po così attaccato con cannavacciolo allora assaggiamo 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 allora prende pomodoro e lo fai uguale anche al limite al limite allora mi faceva molto ridere quando faceva cannavacciolo c'è stato un momento in cui ho tremato allora prepariamo prendiamo un poco l'ingrediente chilometro zero ho dovuto spegnere anche le orecchie oltre che i muscoli tagliamo e comunque no devo dire veramente onore a tutte voi donne perché avete resistito sempre in tutti i miei camion avete visto anche mezzo nudo lì nessuno di voi ma ha fatto delle avanze questo dimostra che siete delle grandi professionisti è la prima volta che lo faccio di come sono appassionato di mentalismo e sono un grande fan di un mago che si chiama mago lioz che ha visto come faccio i suoi numeri mi ha mandato anche un biglietto scritto da lui in persona dove dove mi dice tu sì che sei un mio addetto ecco qua tu sì che sei un mio addetto io comincerei con così con questo numero qui allora metto la faccio partire la musica scusate bravo lì c'è un grandissimo sforzo fisico diciamo muscolare di tentare di mantenere la bocca almeno orizzontale faccio ripartire la musica perché un altro è un altro la mia strategia per trattenere la risata è il male fisico con il lillo mi sono scarnificata il braccio ma vabbè no ragazzi no belle doppia ed è in difficoltà sono arrivato al limite massimo della sopportazione quando alzava l'ha fatto mio adesso faccio ripartire c'è un altro che è strepitoso elio ma secondo te è un gioco di specchi io non lo so solo che c'è il trucco perché ma vedelo così sembra facile vederlo ma cioè potevo andare avanti un altro po' però è caduto ma da dove li tiri fuori? ha fatto il cretino ma non più di quanto poi non faccia fuori e quindi credo di volergli bene prende la bolla e io a elio mi pare che gli ho detto elio ma dove è finita quella bolla non lo so come è fatta a resistere lillo sei un genio bello, bello, bello bellissimo, bellissimo non ce l'ho fatto ci tengo sul serio, è una cosa seria perché no perché non è un luogo comune questo del profilo migliore e peggiore il profilo migliore mio è questo questo qua lo vedi? il peggiore è quest'altro che è questo è vero, è vero caccio si è molto peggio capito? io riderei subito e sto cagando sono delle cagate che a me mi fanno ridere quindi è vera questa storia che sembra come se tu avessi una paresi no ma fruttale non si vede capito? no ma adesso però ce l'hai anche da questa parte però ce l'hai sia da questa parte che dall'altra delle volte mi confondo no lì sulla paresi sono morta quella è stata una cosa che lillo mi ha ucciso ragazzi ragazzi esibizione di Elio che rischia di essere un momento falce cari amici siccome come vi ho già detto io non sono qui certamente per vincere ma sono qui con un occhio al mio percorso artistico mi esibirò ora in un brano che è una specie di midley o medley o melange di musica e balletto potete andare con la base troppo 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 diverso ma io posso farvi una mia performance di imitazioni? oh dai dai bravissimo bravo vi avviso se ci tenete a vincere questo gioco cercate di non ascoltarmi perché potreste ridere a cazzo allora questa è l'imitazione di un uomo di 30 anni che ancora non ha imparato a leggere l'orologio quello lì con le lancette però ci prova potresti chiedermi che ore sono? che ore sono? scusi le tre? cioè quel punto di domanda interrogativa guarda Ciro Mara 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 ti sta trattenendo forte questa è la mia imitazione di Topolino che va a farsi un esame della prostata questa è la mia imitazione di un prete senza braccia in nome del padre, figlio, spirito, santo amen Dio, quanto è divertente questa è l'imitazione del fratello di Massimo Troisi mio fratello era davvero una persona straordinaria e un gran comico madonna, uguale bravo pazzesco bravo il fratello di Massimo Troisi cioè come ti viene il fratello? poi sto lavorando a questo personaggio è un robot che viene sulla terra ha sembianze umane e non deve farsi scoprire che è un robot ma è un coglione e si chiama Roborto e non c'è nessuna attinenza tra il nome Roberto e la parola robot fortissimo io vorrei lasciare la stanza aspetta, dagli tempo che cresce quando fanno cin cin sai che fa Roborto? gli scappa sempre a morte gli umani e non volevo dire cin cin ma no, ma è geniale ma perché fanno questo gesto? perché loro si pensano che è da umani e se tu ti avvicini alla mano sai che senti? Elio chiedimi che ne pensi di Alexa Roborto? che ne pensi di Alexa? MC cioè è un tipo bellissimo chiedigli Elio che cos'è l'amore guarda che fa che cos'è l'amore? è 56 mega bella questa bravo bravo ecco questa qui è una sorta di esibizione barra televendita è un watermobile ho creato io questo hybrid toilet ibrido perché? perché funziona sia per elettricità che anche attraverso una rielaborazione del contenuto che viene diciamo emesso ogni tanto toilet hybrid che solo gli invidioli chiamano cessi a pedali attenzione toilet hybrid vantaggio neanche doppio tripolo perché tu non ti fermi più neanche all'autogrill o non devi più andare in bar e addirittura la tua velocità aumenta anche se temporaneamente grazie proprio al riutilizzo del materiale contenuto nella tua eh sì ancora no sono molto brava Elio se volete fare un giro la carta davanti è pratica? sì anche perché metterla dietro era un po' impossibile vado? vai 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 ragazzi vado? vai tranquillo esatto e come fai se devi andare a prendere i bambini per esempio a scuola cioè dove li metti? guarda temporaneamente ne puoi infilare uno solo dentro al water sempre che cosa sta facendo quello? pazzito bello comunque Elio sono qui da Spunk salve lo Lillo ma che stai dicendo? che fingono l'orgasmo quando fanno è possibile sì 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 addios perché a tutte le donne è capitato di fingere e secondo te io non so riconoscere la differenza? no allora mettilo un po' nel ghiaccio lo fai un po' che si raffredda e prende colore io ti dico che sei ridicola molto sexy quello che ha preso lei hai cagato?